Ha trascorso qui le sue ultime ore di vita Luciano Romagnolo, il cui corpo senza vita è stato ritrovato al piano terra in una pozza di acqua di questo stabile in costruzione a rampa Santa Maria delle Grazie. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso e a stabilire a quanti giorni fa risale la morte dell'uomo. Del 56enne si erano perse le tracce da oltre dieci giorni. Luciano, il 7 gennaio, dopo aver dato in escandescenza nei pressi del Tribunale di Avellino, era stato ricoverato in ospedale. Il giorno dopo ha lasciato la città ospedaliera e dal giorno successivo si sono perse le sue tracce. Gli amici, che lo hanno sempre aiutato, anche attraverso le nostre telecamere, hanno denunciato la scomparsa dell'uomo. Luciano non si vedeva più in giro da giorni ed il telefono risultava spento, particolari che sono suonati subito come un campanello d'allarme. Lunedì la denuncia di scomparsa presso la stazione dei carabinieri di Grotta Minarda e ieri anche un appello sulla pagina del programma RAI. Chi l'ha visto? Tutto senza alcun esito. Il 56enne, nei mesi scorsi inoltre, attenzionato dai servizi di assistenza, aveva fatto la spola tra la mensa dei poveri della Caritas di Ocesana, l'ospedale Moscati, dove per giorni ha dormito nel pronto soccorso gli uffici di servizi sociali e dell'ASL, ma in nessuno di questi luoghi Luciano si era visto negli ultimi giorni. E con il passare delle ore è aumentata la preoccupazione. Le ricerche dell'uomo stamani hanno portato alla drammatica scoperta. Verso le sette i carabinieri di Avellino hanno ritrovato il corpo di Luciano senza vita all'interno del cantiere di Rampa Santa Maria delle Grazie, un luogo noto al 56enne che da anni periodicamente dormiva all'interno di questa palazzina in costruzione. A marzo del 2018 Luciano cadde dal primo piano di questo edificio, un volo di alcuni metri in seguito al quale riportò una serie di contusioni e ferite non gravi. A distanza di quattro anni la scena si è ripetuta, ma questa volta il finale è stato drammatico.